I freddi numeri parlano di migranti sbarcati sulle coste italiane a partire dal 1 gennaio 2017 e sino a fine giugno, sempre 2017, di 83.000. Facendo un raffronto con il 2016 e il 2015, ci sono circa 13.000 migranti in più dopo sei mesi dell'anno. Nel 2015 infatti furono 70.329, mentre nel 2016 furono 70.222. Dati che, analizzati mese per mese, parlano di una differenza avuta soprattutto nei mesi invernali rispetto agli altri anni, con molti sbarchi, quasi 9.000 nel 2017 a febbraio, quando i flussi invece sono in genere molto più contenuti. Nei mesi di maggio e giugno il dato è sostanzialmente consolidato, così come nei precedenti due anni senza un particolare scostamento al rialzo. Oltre 2.000 i dispersi o deceduti in mare, secondo i dati dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, nei soli primi sei mesi, per una mattanza che ha già portato alla morte decine di migliaia di persone, tra cui donne, uomini e bambini, in questi ultimi anni. La Nigeria è il paese dal quale provengono il maggior numero di migranti, un paese in recessione economica e devastato al nord dalla sanguinosa guerra di e contro Boko Haram. Gli Eritre invece, in questo 2017, sono il secondo popolo per numero che arriva in Italia via mare dalla Libia, una rotta battuta da quasi il 90% delle partenze nel Mediterraneo. I numeri dell'accoglienza poi ci dicono di un sistema in affanno e naturalmente sempre in emergenza. Sono in particolare le strutture temporanee, i cosiddetti centri di accoglienza straordinaria, quelli sui quali grava maggiormente il peso dell'accoglienza. A seguire a grande distanza in realtà si trovano gli SPRAR, il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, la Rete di Enti Locali che accedono al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi di Asilo per la Realizzazione di Progetti di Accoglienza Integrata. Prima riflessione e primo problema per l'Italia resta la ricollocazione all'interno dell'Unione Europea con accordi che stentano a decollare rispetto a numeri in costante modificazione. Resta tuttavia anche una seconda riflessione, e cioè che qui non si parla di numeri, bensì qui si parla di persone uomini, donne e bambini.